Sono stati i finalisti del Premio Strega 2023 i protagonisti della seconda giornata di Arezzo dei Lettori, la prima tappa in territorio aretino della Città dei Lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano. La Fortezza Medicea ha così ospitato i cinque autori in Lizza per il prestigioso riconoscimento letterario, Rossella Postorino, Adad Adamo per Interposta Persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. Tutti sanno oramai che la Città dei Lettori è un progetto che si espande in tutta la regione toscana, Arezzo è una delle tappe più importanti, quindi Arezzo dei Lettori quest'anno ha ospitato in questi giorni degli appuntamenti che hanno lasciato il segno in quelli che sono i lettori della città. Chiuderemo con la cinquina del Premio Strega, quest'anno particolarmente importante, e prima del Premio Strega un alexio del professor Carlo Ginsburg, Piero della Francesca, è il suo oggetto di studio, qui lo avete presente, qui avete presente, insomma, è un po' il baluardo anche della città di Arezzo. Un intervento, quello di Carlo Ginsburg, rivolto a tutti gli amanti della pittura del grande artista aretino Piero della Francesca per rileggerne l'opera sotto una luce inattesa a partire dal saggio Indagini su Piero, riedito da Delfi a 40 anni dalla prima pubblicazione. Io sono portato a dire che quando siamo di fronte alla flagellazione abbiamo l'impulso di dire ecco il quadro più bello del mondo e poi se andiamo a San Sepolcro diciamo la stessa cosa per quanto riguarda la risurrezione. Ora queste affermazioni apparentemente si contraddicono ma in realtà c'è qualcosa sotto che spiega questa sequenza e cioè quadri diciamo straordinari come questi annullano tutti gli altri. È come se fosse un mondo in cui si entra e non c'è niente al di fuori e quindi è il quadro più bello del mondo perché è l'unico.